Cittadini di Pallafranga, oggi alle ore 11 in Piazza Umberto incontrirei i cittadini per informarvi delle metodiche di ricorso contro le bollette della spazzatura e dell'acqua per tutelarli dalle cartelle fattoriali. Oggi alle ore 11 tutti in Piazza Umberto per sapere cosa fare contro la speculazione legalizzata nei servizi essenziali quali l'acqua e la spazzatura. Oggi alle ore 11 tutti in Piazza Umberto. Il Signore Padone mi canto e mi ha detto che questa volta si dà battagliare e questa volta volerò fare. Cittadini di Pallafranga, oggi alle ore 11 in Piazza Umberto incontri i cittadini per informarli delle metodiche di ricorso contro le bollette della spazzatura e dell'acqua per tutelarli dalle cartelle fattoriali e per le problematiche attinenti all'occupazione. Alle ore 11 tutti in Piazza Umberto per sapere cosa fare contro gli speculatori legalizzati.